In questo video tutorial ti spiego come scaricare e installare il driver della stampante. So che hai appena comprato una stampante e ti sei accorto che nella scatola non c'è il cd di installazione. Se è questa la tua situazione metti mi piace su questo video. Adesso non sai come fare installare il driver della stampante, anche perché non sei molto tecnologico. Nessun problema! Adesso ti faccio vedere in pochi passaggi come configurare la tua stampante. Supponiamo che tu hai appena acquistato la stampante HP Envy5010. Una volta accesa la stampante vai su internet. Digita driver HP Envy5010. Puoi cliccare direttamente sul primo risultato. Ora clicca su download. Poi clicca su salva. Infine clicca su esegui. Fatto questo vai su impostazioni. Clicca su dispositivi. Ora sul lato destro clicca su stampanti e scanner. Adesso clicca sul driver HP che hai installato. In questo caso HP Envy5000. Clicca su gestisci. Ora clicca su imposta come predefinito. Adesso la tua stampante è pronta per stampare dal tuo pc. Spero di esserti stato utile. Per qualsiasi problema con l'installazione della tua stampante, scrivimi una mail a comeusare.tutorial.gmail.com, allegando lo screenshot del problema. Se vuoi ricevere altri video sulla tecnologia, iscriviti al mio canale, perché io pubblico solo video tutorial che riguardano computer, programmi, software, app e dispositivi mobili. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video!